Musica Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi sto registrando per la seconda volta Perché magicamente l'elgato di nuovo Non mi è registrato questo ditmatch qui Dovevamo fare un run and gun ragazzi Un semplice allenamento così Tutti contro tutti Mi andava di farlo Lo facciamo così mi alleno anch'io Quindi ragazzi partiamo velocemente Farò il semplice live commentary qui Spero di divertirmi e di fare un buon punteggio ovviamente Ci siamo vestiti con il classico abbigliamento della crew Quello con il giacchino nero, canotta bianca e guanti a metà Poi chiaramente con gli occhiali swag Ok ragazzi partiamo Vi ho scelto il ditmatch training facility 2 Penso che si pronuncia così Speriamo di fare un buon punteggio Ancora lui Preso Ovviamente ragazzi niente caschetto Niente di niente di protezioni Adesso ho metà vita quindi potrei Madonna Dall'altro lato Che nervi sto fatto Degli spoon fatti a merda Ecco mi ha preso in testa Grandissimo poter Vai Dai Perfetto Tutte e due in testa Ok ragazzi continuiamo Prendiamo qua la vita Attenzione da dietro Ok perfetto Ragazzi Dicevo io Non avevo la visuale così allontanata Bisogna sempre allontanare la visuale ragazzi In questi ditmatch O mi sparano una a fianco Lo sapevo Ragazzi Quanto me lo sentivo Che mi doveva spawnare una a fianco Quanto me lo sentivo Me lo sentivo proprio bene Completamente bene Quindi adesso 3 contro 3 Ok Preso In testa Eh vabbè Nella capriula ragazzi Nella capriula Io mi stavo abbassando Lui mi ha preso prima Che facessi la capriula Vai Ok In testa Quante volte la devo prendere in testa ragazzi No no sto caricando Sto caricando Sto caricando Va bene Sempre mentre sto caricando Dai ragazzi Continuiamo Guardatelo Preso in testa Perfetto Adesso ragazzi Mi spawnerà qualcuno a fianco Me lo so per sentire Oppure lì in fondo Infatti Eh 40.000 colpi Dai ragazzi Avete visto che lo stavo mirando in testa Ecco Dai Eh porca miseria Quanti colpi devo darli Vai Ragazzi Non c'è più la regola Un colpo in testa e muri subito 2-3 ce ne vogliono Questo mi poteva fre- Eh da dietro Da dietro Guardate da dietro Porca miseria Mi spawnano dietro le persone Che nervi Vai ragazzi Continuiamo Che sta andando bene Questo se ne scappa Guardatelo Quanto è bello Ok No 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 Non mi devi saltare La capriola la devi fare Non mi devi saltare Eh niente Uh Vedi Li spawni merda Mi ha spawnato dietro a lui Che merda Guarda Ok E grazie che poi lo killo subito Che lui non se ne accorge Adesso qualcuno spawnerà No Qua mi prende lui E' dall'altro lato Ah ci sono proprio Abbiamo fatto l'ammazzamento Così a 3 Ok L'ho preso in testa Proprio perfettamente Aspetta che mo mi spawnerà Quello a qualche parte Infatti Me lo sentivo Morto E da dietro Da dietro ragazzi Attenzione Errore Perfetto Oddio La bombola sta impazzendo Aspetta che questo campera E' l'unico che campera Anche prima Che l'abbiamo fatto con lui Niente Non ce l'ho fatta proprio Mi ha fatto lui subito Vai Continuiamo ragazzi Ma che cacchio è Andata a terra di polvere Ho visto Vai Continuiamo Sta registrando sì Perfetto Ok E mi frega la kill E muori Bastardo E mi hai preso pure tu Dopo che ti ho ucciso Questa è bella Questa è bella Un attimo Una piccola rinascita Che hai avuto nel tuo cuore Da dietro Che belli spawn ragazzi Mi ha spawnato Dove mi ha spawnato a me Bellissimo Dai Tre colpi in testa Per morire Dai Tre colpi in testa No qua mi prende lui Infatti Devo fare sempre dopo la capriula Dopo come la fa lui Continuiamo Mori Aspetta che ora mi spona Dietro qualcuno Guardate Non ho vita Quindi mi ammazzerà In due secondi Ok Ho preso un po' di vita Ok Ah Sono ammazzati a vicenda Aspetta ragazzi Mi devo allontanare Ho bisogno di prendere vita E giubbotte Eccetera eccetera Ok Ah Quelli si sono spawnati insieme Ma ti ho preso in testa È uscito il sangue È uscito il sangue ragazzi Io vedo il sangue Cioè Quando esce dalla testa Ok Ragazzi Qua mi prenderà Mori Ok Mori Perfetto Ragazzi Adesso mi spenderà qualcuno dietro Niente Ok perfetto Ma la sono scampata Ah Qua non c'era la pistola Da combattimento Oh Non si capisce niente ragazzi No Vai ragazzi Tre colpi in testa Per morire Perfetto Che chissà lui Quanti ne sono arrivati Manco uno Vai Ma ti ho preso in testa Ah perfetto Sei morto Sei morto Perfetto No perché ancora Vai Ma questo qua Tre colpi in testa Per morire Dai Com'è che a me Uno E me ne vado giù Cioè Dai No 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 Mi mira automatico Attenzione che mo Fa Bu bu Fatto Ok Niente ragazzi Io li sparo Ma non li faccio niente Questa è una cosa Impressionante Sta andando pure bene La connessione Non so proprio che dirvi Tre colpi in testa Per morire Mi sembra giusto Ma questo a uno Perfetto Continuiamo Ok Perfetto Serie di uccisioni Pretenzione a questo In testa Preso Proprio di liscio Così Veloce Veloce In testa Un colpo Vai Continuiamo Continuiamo No ragazzi Guardate Non mi fa la capriola Mi salta È da ridere Qua c'è poter Due colpi in testa Perfetto Abbiamo finito ragazzi Ah le stesse ki di primo Ho fatto 35 e 24 Ok ragazzi Abbiamo terminato Questo video Adesso sta registrando Per fortuna Ringrazio Potter Per la partecipazione E volevo fargli complimenti Perché è davvero bravo Quindi ragazzi Per questo video è tutto Superiamo i 50 like E commentate E condividete questo video Seguitemi su Instagram Mandatemi un'amicizia Su Facebook E lasciate un like Sulla pagina di Facebook Ovviamente 35 e 24 morti Rattivo di fuoco Rattivo umano morte 1 a 46 Perfetto ragazzi Salutiamo tutti Quindi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Bella Al prossimo video Al prossimo video Grazie a tutti.